Da vari anni alcuni gruppi di azione cattolica delle diocesi italiane raggiungono assisi per visitare la città. Sabato 8 agosto arriverà un gruppo di adulti di Cesena, Sarsina. In mattinata visiteranno la Basilica di San Francesco, mentre nel pomeriggio saranno accolti dal padre vescovo nella sala della spogliazione insieme ad alcuni rappresentanti del settore adulti e al vicepresidente dell'azione cattolica diocesana.